L'esercito nordcoreano ha ricevuto il definitivo via libera per uno spietato attacco nucleare contro gli Stati Uniti. L'ultima provocazione di Pyongyang arriva intorno alle 10 di ieri sera e mette i brividi. Con questo comunicato rilanciato dall'agenzia ufficiale del regime nordcoreano, lo stato maggiore dell'esercito ha portato ai massimi storici la tensione con Washington e la Corea del Sud, sua alleata. Le minacce americane, continua la nota, saranno annientate da mezzi di attacco nucleare più efficaci, piccoli, leggeri e diversificati. Ora, se si tratta di una minaccia reale o di una ostentata prova di forza non è ancora chiaro. Intanto, però, secondo quanto riferisce l'agenzia sudcoreana Yonap, Pyongyang avrebbe fatto trasportare sulla propria costa orientale un missile di media gittata. Dalle analisi fatte potrebbe trattarsi di un vettore capace di coprire 4.000 km e quindi di raggiungere la base statunitense di Guam, proprio lì dove il Pentagono ha confermato il dispiegamento di un sistema antimissile contro le minacce nordcoreane. Una decisione presa prima del comunicato di ieri sera è definita una mossa precauzionale per rafforzare le postazioni americane di difesa regionale. Intanto, dalla Casa Bianca arriva la replica alle provocazioni del regime di Kim Jong-un. La Corea del Nord deve smetterla con minacce provocatorie e cercare di conformarsi agli obblighi internazionali. Questa è la presa di posizione di Washington che però, secondo quanto scritto dal Wall Street Journal, starebbe rivedendo i suoi piani e starebbe decidendo di accantonare, almeno per il momento, un atteggiamento aggressivo per evitare la prospettiva di possibili incomprensioni nella convinzione che Pyongyang non abbia piani imminenti di azioni militari. Naturalmente, comunque, la guardia resta altissima, come conferma anche il segretario alla difesa Chuck Hagel. Basta un solo sbaglio, ha dichiarato, ed io non voglio essere il segretario alla difesa che una volta si sbagliò. Intanto resta altissima anche la tensione tra le due Coree, dopo la chiusura ai dipendenti del sud dello stabilimento industriale di Kaesong, il complesso dove lavorano decine di aziende del sud e 53 mila lavoratori del nord, simbolo del tentativo di riavvicinamento tra i due stati. Nella notte, l'agenzia Ionap ha parlato di un ultimatum della Corea del Nord ai lavoratori del sud, sull'abbandono del distretto entro il 10 aprile, una notizia poi smentita dal Ministero dell'Unificazione di Seoul, anche se questa mattina Pyongyang ha rilanciato la minaccia della chiusura totale di Kaesong.